Ho 36 anni, sono sposato, sono un papà innamorato. Porterò in Regione Lazio lo stesso impegno e la voglia di fare che ho avuto in questi 5 anni in Campidoglio. Sarò a disposizione di tutti, un consigliere a portata di mano. Per risolvere le problematiche più grandi e più piccole non trascurerò nessuno. Credo nella politica fatta al servizio dei cittadini, con onestà, trasparenza, determinazione, impegno e passione. Alle elezioni del 24 e 25 febbraio, sulla scheda verde per storace presidente, barra il simbolo della destra e scrivi Santori.